Si è dimesso più o meno inaspettatamente il sindaco di San Cataldo, Franco Raimondi, a meno di due anni dalle elezioni. Con il centro-sinistra, Raimondi non ce l'ha fatta più a sopportare le pressioni, anche della sua stessa maggioranza, pressioni che sin dai primi mesi di mandato lo volevano in un rimpasto di giunta. E si sono perpetrate nel corso del tempo sino alla richiesta dell'azzeramento totale. I ben informati dicono che, data la coalizione larga e da molti definita anomala, un epilogo del genere lo si sarebbe dovuto aspettare. Infatti, tra i corridoi di Palazzo delle Spighe, nessuna meraviglia ha suscitato la notizia, si sentiva odore di dimissioni già da tempo. Ha consegnato i suoi pensieri ad un documento di sei pagine, nel quale spiega le ragioni della sua scelta pensata, riflettuta e pare proprio sofferta. Sei pagine nelle quali traccia il suo percorso parlando di accordi politici non mantenuti e di impegni non rispettati da parte delle forze politiche che si sono apparentate al secondo turno. Ha scritto più volte la parola di altà, generosità politica, nel documento protocollato nella mattinata e però non ha retto alle pressioni dei partiti suoi alleati che chiedevano di modificare la compagine di governo. Adesso, insieme al sindaco che ormai, dopo la ratifica delle dimissioni da parte del segretario generale, cade anche la giunta. Il Consiglio resterà in carica e sarà nominato dall'assessorato agli enti locali un commissario che amministrerà con pieni poteri sino a nuove elezioni che si terranno a giugno in contemporanea con quelle per il rinnovo dell'amministrazione nissena.